Allora, sul tetto non ci arriviamo, non ti sta a camminare la persona, se no, c'è presa la residenza, sono il sindaco di Tilted Towers Ah, i shotgun, mai nella vita Mannaggia, se lo vedevo prima Vabbè, ce lo tiriamo Vabbè 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 Grazie. 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 What? What? Mi tolto le costruzioni. What? 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 Mi dispiace, ho zero voglia di stare a sparare col coltizio lì dietro. Grazie a tutti. 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 1v1 situazione. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.